E bella a tutte ragazze e benvenuti su questo nuovissimo video Ragazzoli come avrete già letto dal video oggi andremo a fare un unboxing di questo fumetto Fortnite Batman Fortnite.0 Mi raccomando prima di tutto vi ricordo di iscrivervi, attivare la campanella e condividere il video con i vostri amici Detto questo direi di iniziare a fare l'unboxing Allora, apriamo molto delicatamente la copertina senza rovinarlo Senza rovinare il fumetto Molto piano, va bene, un bordo l'abbiamo fatto Cercando di non rovinare le estremità Piano ed ecco qua Ecco qua ragazzi il nostro fumetto Come si presenta così davanti E invece dirlo così Vediamo solo la prima pagina E si presenta così E ragazzi ci vediamo appena ho riscattato il codice Eccoci qua ragazzi Andremo ora a riscattare Harry Queen Rebirth Cioè Harry Queen rinata Accediamo alla battaglia reale E attenzione ragazzi Eccolo qua ragazzi Harry Queen rinata Harry Queen rinascita Ce l'abbiamo nel nostro bellissimo marmeretto Vi ricordo di iscrivervi a terra la campanella E ci vediamo alla prossima Bella Ciao